Ci fa piacere poter battezzare la riapertura dei teatri, finalmente una stagione invernale dopo due anni di sofferenza, attraverso la nascita di questo nuovo episodio, un episodio di racconti teatrali che sono dedicati al pubblico, sicuramente consono, serale, adulto, cosiddetto, ma anche e soprattutto ai ragazzi delle scuole. Credo, crediamo, io e anche con Federica Vicino che insieme a me ha ideato questo progetto, che sia uno strumento di ripetibile utilità educativa e formativa il teatro, sia farlo nelle scuole che vederlo. Raccontiamo storie, ci si immedesimano i personaggi e si ha la possibilità di crescere insieme a loro. Partiamo appunto da novembre, arriviamo fino ad aprile, ogni mese, un venerdì e un sabato alterniamo i mattini per le scuole appunto con gli spettacoli serali, di più di 50 gli artisti e i performer coinvolti in questa cavalcata di questi sei spettacoli e crediamo e speriamo che la cittadinanza, anche fuori dai confini, ci vengano a trovare, sostenere e speriamo ad applaudire. Abbiamo deciso di sostenere questo progetto, un progetto che ritengo molto importante, sia perché coinvolge le scuole e sia perché coinvolge con gli spettacoli serali anche tutta la cittadinanza. E quindi è un bel messaggio la possibilità di poter unire gli spettacoli dedicati alle scuole con invece le rappresentazioni che sono aperte a tutti e probabilmente gli stessi alunni che assistono agli spettacoli della mattina inviteranno i genitori, gli amici e i parenti ad assistere anche a quelli serali.